oh e non sono abituata io non vedo bentornati amici fantascoltatori 20 something ogni due settimane perché lo ricordiamo un appuntamento che anche io mi stavo dimenticando perché ero abituata una settimana ma sempre alle 18 sempre sul pertini radio bentornato davide come stai tutto bene tutto bene alice te come stai sono super emozionata super emozionata per questa nuova postazione tantissimo non posso guardare da nessuna parte infatti mi sto cercando di mettermi come si fa anche io sto cercando di farlo ma non sono capace eccoci ok ci siamo così posso vedervi perché girarmi di qui poi do le spalle dei spettatori girarmi di lì do le spalle dei spettatori quindi io vi guardo direttamente da qua e che figata madonna questa roba che cambiamo pure le videocamere vabbè comunque non so se l'avete notato ma io davide siamo anche vestiti matchati era volontaria la cosa certo che sì assolutamente sì sì ci siamo scritti prima no per questa cosa non hai preso il cappellino poco fa per no no è mio non è neanche brandizzato il pertini radio tutto tutto mio ma tema della puntata di oggi davide chiaramente non lo sapeva no quindi vai raccontacelo tu allora oggi siamo qui per parlare di quello che sta per dire alice si dice paracule in gergo in gergo in gergo giovanile sanno tutti che sono così oh ciao ali non siamo abituati ad avere una regia noi ci salutiamo solo tra di noi ciao grandi novità grandi novità compaio sullo schermo ma io non mi riesco a guardare perché è una cosa bruttissima perché carina divertente no non mi riesco a guardare non va in live pensavo non ti non ti piacesse guardare no 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 è bellissimo guardarmi anche questa cosa che non ti piacesse guardarti no 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 non riesco a guardarmi vuol dire che non non va in live strano ma tu ti riesci a vedere ma se io sto guardando non è che non ho fatto partire niente no no siamo online siamo live eccoci va bene mentre tu risolvi questo problema io risolvo io faccio qua tranquilli io e l'ali ali più ali esatto il tema di oggi parte da una cosa che ho notato ieri sera mentre guardavo la terza puntata di bridgeton ce l'ho fatta fantastico ora siamo 2001 spettatori mentre guardavo la terza puntata di bridgeton che ancora numero uno nelle serie tv su netflix sei un po scioccata da questa cosa non ti vedo non ti vedo contenta a parte che secondo me ha floppato dopo la prima stagione no la seconda è bella qual è la seconda è dove c'è la ragazza indiana deve sposare la sorella charma lì sai perché vicente perché la trama è lui e poi le scene spicy comunque aumentano di livello ogni stagione che passa top player secondo me comunque è benedict e ti dico sì io sono in inferiorità numerica oggi sotto questo punto di vista quindi fate pure cioè no però una stagione su benedict la dovrebbero fare la prossima dicono sia su benedict ma non è su francesca la prossima io devo fare su francesca ma questa non è su francesca no come penelope e francesca no dovrebbe essere su su penelope la protagonista francesca è lì cioè lei è lì insomma però non so se non credo sia dedicata anche a lei boh non lo so no bene lo candina ce l'ho solo penelope è esatto per quello e c'è penelope colin quindi di solito è centrate in una coppia anche francesca mi sta sulle palle perché a me tutte le donne di bridgetton mi stanno sulle palle ma come mai questa cosa nonostante io non l'abbia mai vista allora ti racconto in succo di cosa parla bridgetton praticamente siamo nell'inghilterra 1700 1800 penso sì in quegli anni lì e ci sono delle famiglie di reali e loro tutte le stati si trasferiscono a mayfair che è un paesino in campagna per le vacanze per le vacanze sì precisamente dal 1811 al 1820 abbiamo gli anni precisi la caduta di napoleone quindi a basso a basso e quindi ci sono loro che durante l'estate si trasferiscono a mayfair e a mayfair praticamente è il periodo in cui le donne e gli uomini trovano coppia ok trovano l'amore ok tanto in quel periodo dell'anno tipo quando inizia uomini e donne c'è il senso è quello tipo la primavera eh sì ok primavera nel senso che in primavera scoppiano l'amore in primavera scoppiano gli amori ah sì si dice sì 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 loro hanno questa mentalità esatto loro vanno lì e praticamente c'è tutto il tonno si chiama che i ricchi ricca borghesia insomma sì nobili ricca borghesia inglese si trovano tutti lì organizzano sempre tutte le sei allora a parte che non lavorano mai questi non fa niente sono nobili cosa devono fare no no niente infatti c'è tipo in questa stagione c'è uno che parte ad essere borghese che aveva un bar benestante comunque però comunque borghese non nobile che praticamente si scopre che un parente lontano di loro è nobile e cede tutto al figlio di questa coppia che c'è tipo dieci anni no quindi loro diventano in automatico nobili perché genitori di un nobile questo è trovato dieci anni ad avere un'eredità sì totale però loro il paese un nobile fa al proprietario del bar tu non puoi più lavorare perché sei un nobile e lui fa mamma non me lo faccio un cozzo e continua a lavorare ok cioè almeno fino alla punta quindi lui è pieno di soldi ma vuole continuare a lavorare sì perché lui dice io ho realizzato il mio sogno aprendo il bar cioè io non è che lavoro perché mi diverto a fare questo lavoro cioè lui fa io sto aperto due ore a notte bevo mi diverto insieme ai miei amici più giovani così non siamo più in campagna elettorale possiamo dirlo più giovani così sì vabbè comunque quindi durante l'estate loro si trovano trovano l'obiettivo finale è sposarsi ogni anno no e c'è il ballo delle debuttanti inizio estate che sono tipo le diciottenni che iniziano a entrare in età adulta da maritare ok ok e poi c'è la regina che ogni anno decide un diamante questo diamante sarebbe la ragazza più bella cui tutti gli uomini più nobili dovrebbero ammire la regina del ballo tipo elatronista ok maria per favore buonasera buonasera a tutti abbiamo anche maria dei filippi qua con noi beh c'è l'altro da maria dei filippi in questo momento è lì sono qua che faccio tutta la regia che vi osservo che vi un giorno questa è la storia di davide e già lì c'è la storia di davide inizia a mayfell nel lontano 1811 vabbè quindi comunque c'è sto diamante il focus centrale di bridgetton è la famiglia bridgetton che sono tipo un sacco di figli tipo 8 9 la metà donna e la metà uomini e ogni stagione c'è la storia di uno dei figli a quanti stagioni sono otto e tante ma siamo la terza sì e quindi di logica dovrebbero essere otto le stagioni di praticamente sì sì perché ci sono daphne eloise yacinth e francesca gregory gregory siamo a cinque benedict benedict il vicomt vicomt no è il vicomt e no ma lei non c'entra si è bridgetton a sì sì ma quello che ha sposato daphne no quello che ha sposato la tizia diana ah sì o dio anthony anthony colin colin 8 8 giusto 8 giusto sì sì 8 8 8 8 scusate mi stavo guardando e ogni stagione è incentrato su una delle figlie o figli ok ok però la cosa che mi ha fatto portare questa serie tv qua a parlarne con te è che è surreale cioè loro passano tipo quattro mesi della loro anno a cercare di rimorchiare qualcuno cioè la loro giornata è in funzione di questo capito è fuori di testa sta roba sì sì cioè tutti questi qua si svegliano la mattina no il loro obiettivo è tipo le donne fanno il ballo la sera no il giorno tutte le sere tutte le sere c'è un ballo a casa di una nobile diversa o un nobile diverso di una famiglia di cercare di trovare l'amore l'amore inizi un po insomma classica estate italiana nel senso non c'è niente di molto diverso esatto però tu il giorno dopo una festa ti svegli ti fai i cazzi tuoi no ti fai i cazzi tuoi questi invece le tipe aspettano a casa nella ora della chiamata che questi gli uomini che hanno conosciuto giorno prima arrivino lì portando dei fiori di cioccolatini per conoscere ancora di più la tipa e se loro non lo fanno allora non va bene cioè nel senso sono tipo esclusi dai pretendenti il classico non messaggio mandato il giorno dopo infatti infatti io sto un attimo facendo un parallelismo con i giorni d'oggi ci stai riuscendo bene dai ma è fuori di testa secondo me questa cosa perché loro passano veramente tutti i giorni vanno al ballo ci provano quei tipi il giorno dopo tornano a casa aspettano che il tipo vada a casa loro per provarci ma non fanno tipo un aperitivo con le amiche per parlare del giorno prima no non possono uscire da sole fanno niente possono uscire da sole loro stanno in casa tutto il giorno perché non può uscire senza uomo devi uscire per forza solo con la tua come si dice con la tua dama di compagnia oppure con tuo marito o con tuo fratello non possono uscire da sole quindi le donne classico 1800 quindi giusto assurdo sta roba assurdo tipo una scena spero di non spoilerare niente nessuno di quello che stanno guardando praticamente c'è colin sotto un albero con penelope penelope deve lasciare fuori la sua dama di compagnia e va sotto l'albero insieme a colin per dirgli non possiamo più parlare no non mi ricordo questa scena però faceva effetto come mai non possono parlare e perché sono successe cose davide non puoi non puoi dire perché se no spoiler alert vai volevo fare un triangolo ma mi sono resa conto che il segno era spoiler alert vai colin e penelope limonano potrebbero farlo ma lo fanno lo stesso limonano ma loro sono grandi amici e lui comunque lei cerca marito ok però lui fa lei gli fa un discorso tipo no perché se rimango zitta alla vita almeno voglio dare abbia un primo bacio voglio che sia tu perché c'è un legame d'affetto tra noi due perché ci sono tanti parallelismi con il giorno d'oggi comunque con queste cose nel senso è per questo che piace è carino dai è troppo troppo come si dice scusate c'è una suoneria tipo lento no non lento surreale cioè tipo le fan fiction no quando le leggevamo perché è tratto dagli armoni cioè nel senso il libro si chiamano armoni è se sei quei libri tipo che si leggono le donne sopra 50 che sono molto cioè come dire molto anche amorosi fotoromanzi sì fotoromanzi secondo me è tratto da una collana di armoni cioè il genere è l'armoni e chiediamo assistenza vai davide all'intelligenza artificiale bridgerton dovrebbe essere tratto da una collana di libri e secondo me il genere di questi libri è un romanzo rosa ma tipo hardcore cioè nel senso però tipo tu li hai letti libri no 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 assolutamente no una mia amica a rieri ha lanciato la bomba e fa no perché io mi sono ragazzi sono cieca ti sei commossa per i libri di bridgerton parlare di colin ben bridgerton ben no ho un ciglio nell'occhio no comunque cioè adesso guardo il genere ma dovrebbe essere tipo romanzo rosa beh sì sicuro vabbè comunque cosa stavo dicendo prima di essere uccisa al mio stesso corpo stiamo parlando del parallelismo tra bridgerton e il giorno d'oggi sì totale però è tipo una concezione veramente romanzata e la gente poi capito ci dà cosa dici che non è in realtà quello che succedeva in realtà negli anni 1800 no quello assolutamente no 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 quello assolutamente rivisitata amo tu non hai idea di quante persone amo dimmi cioè storicamente parlando c'erano tante persone di colore rispetto a quelle che effettivamente erano nella nobiltà inglese esatto c'è proprio la non c'era questa diversificazione anche nei balli queste cose qua c'è la regina la regina carlotta era nera nella serie tv nella serie tv ma basta con sta cosa no bridgerton fa apposta l'ha fatto prima di tutti perché ridicolizza bridgerton vuole ridicolizzare le convenzioni sociali dell'epoca ah ok vuole fare questa cosa sì lui voleva non per una convenzione sociale odierna no 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 lui lo fa per ridicolizzare quello di una volta nasce con l'intento comunque di allontanarsi il più possibile dalla storicità della faccenda ridicolizzare un po le normative che c'erano all'epoca e quindi creando un ambiente che era completamente surreale rispetto a quello che era al tempo no ok ma fatto in questa maniera ci può anche stare mi stavo ricollegando a un'altra cosa a rielo tipo adesso cos'è che volevano fare volevano fare aspetta rapunzel tipo non mi ricordo non fare rapunzel di colore una roba del genere con i capelli corti magari con tom holland che avevo visto il meme tom holland e lukaku sì di un altro cartone della disney rivisitato era rapunzel era rapunzel di colore boh non lo so sì stiamo parlando di questo presumo di sì ma penso di sì vabbè lo scopriremo lo scopriremo solo vivendo hai scoperto il nome del romanzo ali nel frattempo sì adesso te lo dico stavo cercando rapunzel di colore visto che c'è questo dilemma abbiamo un attimo distratto dal allora allora il nome del romanzo libri da questa tratta la serie tv abbiamo il duca e io primo titolo su dafne esatto e poi il visconte che mi amava è quello su anthony e beh il visconte era un bel visconte cercati il visconte di bridgerton cerchiamo il visconte di bridgerton la proposta di un gentiluomo è su benedict quindi cioè sei tipo invertito infatti la mia amica ieri mi diceva ha lanciato la bomba e fa io in una settimana di scuola di università mi sono letta tutti i libri di di bridgerton tutti ha scaricato il pdf se li ho letti tutti quanti porca miseria e mi fa che hanno invertito benedict colin però successivo sarà sicuramente benedict eloise eloise che tra parentesi storia surreale che si chiama assor philip con amore che non ho idea di che cosa parli perché praticamente c'è questo davide è proprio tema attuale non ando a sbattere le cuffie con il microfono mi sto arrabbiando ma non ti si sente meno male c'è praticamente eloise che scrive una lettera di condoglianza a questo tipo che dovrebbe essere un suo cugino alla lontanissima perché gli ha appena morta la moglie mi dispiace diventano pen poll e poi lei va lì si sposano come carcerati americani oddio un santo dio no vabbè uguale loro diventano amici scrivendosi sì oddio tra parentesi hai visto il profilo su tiktok dove ci sono incarcerati è tipo pen poll quel sito che c'era un tempo ok tu hai presente davide no mamma c'erano questi siti in cui tu mandavi le lettere ai carcerati americani davvero di loro scrivevano la loro presentazione allegavano foto che cercavano un pen poll da tutto il mondo tu gli scrivi le lettere gliele mandavi e diventavi amico di penna con questi carcerati con i carcerati ma non è una cosa un po' pericolosa no vabbè loro lo facevano cioè penso che scelgano chi può fare questo servizio chi no ah ok tutti americani quelli super strani infatti e hanno aperto anche il profilo ho trovato il bisconte di bridgerton bello eh è lì no davvero è lì commento da etero uomo bianco ho capito cosa devo dire c'è ok ok lei si c'era la dame mica è brutto cioè ha detto ma non posso dire no non è brutto però non è che posso dire un figo della madonna beh no dai ma noi siamo condizioni ma esteticamente il migliore no benedicto non so non mi piace benedicto non so non mi ispira ashley 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 è il nome della dell'attrice che fa la protagonista femminile della seconda stagione se non sbaglio la charma la charm fa fa la charming sì e però sono tutti intrugli tra tra parenti quindi è poco relatable però la gente poi ma in che senso eh sì sono tutti parentati in qualche modo ma questa cosa non la sapevo e beh ma tutti i reali erano tutti imparentati tra loro game of thrones l'hai visto no no come no davide ma tu dove vivi mi sto rifacendo il rewatch di pirati dei caraibi vedi che sono fatta male cioè non hai mai visto game of thrones no scusate tu hai visto house of the dragon ho visto house of the dragon no non ancora guardalo sono molto curiosa però lei non ancora va bene sono 8 stagioni guardalo assolutamente guardalo ma bene lo guarderò però puoi guardare anche prima house of the dragon che è lo spin off no lo spin off si guarda dopo eh ma lo spin off è prima sono tipo 200 anni prima no lo spin off si guarda dopo sempre allora guardati prima game of thrones però anche lì tutti in ciucci tra parenti assurdo più spicy di bridgerton tra l'altro molto più spicy di bridgerton allora lo guarderò poi sono tutte ma zebbiotte gli uomini no sono tutti armored sì 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 invece le donne tutte ma zebbiotte sì o naturel insomma sì naturel sono contento lo guarderò però mi sono lasciata prendere dal racconto di bridgerton quello che volevo dire io è cioè almeno le donne sono molto influenzate da queste tutti i romanzi racconti romanzeschi quando when it comes to love sì voi no perché voi non leggete i romanzi rosa ma cosa vuol dire non vuol dire che non siamo condizionati magari da film o da altre cose e qui volevo arrivare esattamente qui ed è qui che io ti ho portato lei è bravissimo a essere un conduttore no però siamo tutti molto condizionati da tutti questi elementi culturali prima ho beccato un tiktok che faceva vedere le frasi di dostoevsky a cui le ragazze non sapevano di poter essere related to c'era tipo nella vita devi trovare devi vivere non per qualcosa ma per qualcuno una roba del genere queste classiche frasi che ti psico analizzano per fare like prima di tutto e poi che ti possono anche distogliere distogliere l'attenzione su quello che magari distogliere sì su quello che magari era la tua non cade era la tua visione primaria qual era la visione primaria boh di una persona normale magari ti distoglie da quella visione per diventare come bridgeton che loro pensano soltanto trovare marito c'è per me assurda sta roba è e quindi tu dici che si può c'è la visione io dico che la gente noi siamo condizionati da vedere solo serie tv in cui si parla solo serie tv leggere libri cavali e mazzi dove si parla soltanto di amore e questo appunto non era una polemica o nient'altro una considerazione che ho fatto ieri sera volevo parlare di bridgeton lo ammetto poi sei stato tirato in mezzo l'ho stato molto tirato in mezzo perché non sapevo di cosa dire però adesso potrei venire di no no però adesso posso parlare adesso hai tutti i fact esatto ora posso parlare cosa ne pensi ti senti condizionato dalla cultura che ti circonda no 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 e nel scrivere le tue canzoni non ti senti condizionato da me stesso e da tu dove di cosa sei fatto che materia prima sei fatto della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni bella fa caldo ragazzi carina no comunque quello che stavi dicendo è vero tutti i film da quello tipo d'avventura d'azione banalmente anche un horror eccetera magari gli horror di meno sono molto influenzati dall'amore cioè la storia primaria è quella magari di due persone poi attorno c'è tutta la trama di quello che magari vuole parlare il film però senza la storia d'amore perde molto molta visibilità secondo me è una cosa è assurdo se ci pensi però cioè qualsiasi cosa adesso se non c'è una storia d'amore non fa proprio penso che nel 1800 quando c'era questo questa cosa come mai c'è esattamente lì volevo arrivare voglio chiedere alla nostra amica alla nostra amica come mai cioè qual è la domanda che posso fare come mai noi tutti siamo inconsciamente no chiedi da quando nella storia umana nella nei prodotti culturali da quando nei prodotti culturali si è iniziato a parlare solo d'amore perché io pensavo tipo nel 1800 hanno iniziato a pubblicare ad episodi tipo dei romanzi che erano incentrati sull'amore no però si sta parlando nel 1800 qualcosa secondo me è un po' una mezza cavolata il fatto che nell'odierno si parla solo di amore perché è sempre stato così cioè l'amore è il motore principale secondo me della vita ma da sempre cioè qua appunto dice dall'antichità lettura epica opere come l'ilia dell'odissea di eccetera di omero anche nel medioevo con le canzoni tutto quanto il rinascimento l'età moderna è vero da sempre ma raga anche i miti i miti avevano un sacco di miti greci ma soprattutto i miti avevano un sacco di connotazione amorosa c'era sempre una storia soprattutto i miti anche perché essendo storie banalmente inventate è lì che poi si capisce la natura dell'uomo nel momento in cui inventa una storia chissà perché il tema principale deve essere l'amore perché ti intrattiene c'è poi una cosa che può capitare a tutti no ma è più c'è un sentimento che può coinvolgere se quello è fatto che comunque unisce molto relatable sì quindi forse quello perché tu dici se io mi becco tipo ulisse che si faceva il giro del mondo io che sono matematico non farò mai niente è certo però nel momento in cui dici fa il giro del mondo perché vuole tornare da sua moglie che non vede da un botto di tempo allora quella che si fira tutto quanto e rifiuto tutti gli amanti dici spero faccia pure mia moglie io mai dovessi fare il giro del mondo lo faccia pure lei magari è vero noi riponiamo magari speranza in un qualcosa che vediamo in quello che magari ci può capitare fico ma se ci pensi tutti i romanzi ancora sempre quelli dell'ottocento tipo tutte le libri di jane austen lei era una scrittrice una delle prime scrittrici donne mi sembra e lei aveva tutti come sottotemi non soltanto quelli dell'amore perché alla fine poi finivano sempre a sposarsi con più figo di turno però c'erano tipo sottotemi amicizia la scoperta della consapevolezza maggiore della donna tutte queste robe qua no e quindi era un po quello cui la gente aspirava poi chiaramente è tipo per fare le views magari lo faceva le views del tema anche cioè pensa che è figo dire 8 mila persone ma non ho letto sul giornale no comunque sì secondo me c'è una concezione di base magari idillia che dicono che una persona vuole andare a che ne so come si dice ho perso il filo del discorso il filo rosso di arianna sì no dicevo c'è una concezione che la gente magari vede in un un libro o in una serie tv o che sia in un film che magari vuole rappresentare nella propria vita e dice ok come se incarnasse i valori che non potrà mai avere o che magari vuole avere esatto sì che non potrà mai avere quindi lo lo scrive cioè per mantenerlo lì diciamo cioè non so se per mantenerlo vivo per creare esatto per mantenerlo vivo sì ci sono gli scrittori come cacchio di vengono in mente ma secondo me posso dirti noi stiamo facendo tutti questi castelli però secondo me questi si sono svegliati una mattina hanno scelto di fare qualcosa no infatti cioè siamo lì a fare un sacco di interpretazioni ma secondo me la gente ha fatto le cose a caso come le interpretazioni dei quadri presente esatto infatti che dici no ma questo rappresenta ma questo va visto da lontano solo uno scemo lo guarderebbe da vicino e poi lui magari che ne so voleva solo dipingere un cavallo mi è venuto male si mi piace le nuvole le faccio in questo modo no perché la nuvola potrebbe ipoteticamente rappresentare la coppezza interiore che poi è vero magari però come facciamo a taperlo noi cosa ne pensi delle persone che magari guardano ciò che magari non c'è realmente in una cosa quello che stiamo parlando adesso e dipende vanno a estrapolare cose inutili che magari non lo so l'autore non ha voluto dire e dipende se ha lasciato qualcosa di scritto che può confermare questa cosa secondo me è attendibile un discorso del genere nel momento in cui non c'è niente cioè o fai leva comunque su uno studio dell'esperienza artistica precedente e quindi è convalidato in cui magari che ne so uno scrittore tipo socrate non ha scritto niente è solo andato in giro a dire le sue boiate e la gente piano piano la riveva è lì come la bibbia tipo il gossip tipo il gossip esatto era il gossip di allora esatto no perché tu non lo sai cosa ha detto sacrate ali c'è assurdo amo dimmi no lo so non mi ricordo cosa c'è cosa ha detto aspetta una frase famosa lo so lo so lo so di non sapere no 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 era lui sapere so di non sapere il vero intelligente sa di non sapere la frase più famosa so di non sapere sebbene semplice incarna profondamente la filosofia di socrate come faccia cbt a sapere sta roba chi no sono trovato un'altra domanda della vita l'altro giorno perché un pari tempo fa abbiamo parlato delle cose che non sapevano la lista delle cose che non si no ce l'hai la lista che ok ci aggiungo oggi come fanno gli gli scrittori a farsi venire in mente tutte queste storie soprattutto prima di ciao cpt due l'altra che non mi ricordo qual era l'ho visto tic toc però sarà una sorpresa per la prossima volta quindi seguiteci non so che telecamera guardare regia dammi la 2 regia dammi la 2 regia dammi la 2 mi hai dato la 2 veramente no non ti ho dato la 2 no ti sta inquadrando e basta e non è la 2 ah no è l'una è la 1 è la 1 adesso è la 3 che sta inquadrando me ora era 1 no no adesso sto inquadrando l'ali adesso vediamo quindi io devo guardare lì tu sei una la 3 sei io sono la 3 veramente sei la 3 giuro adoro io sono la 1 quindi davide adesso tu sei la no no questa sono io eccolo qua eccomi la 2 hai rubato la 2 regia dammi la 3 e adesso eccola qua questo potete vederlo solo recuperando la nostra puntata sui nostri devices quindi su spotify youtube twitch per due settimane cercando sempre il pertine radio grazie io spero anche capiremo tic toc sarebbe divertente vedere andrepress fare i balletti c'è tic toc ma tu facevi tic toc prima e sì quando ero qua 24 su 24 è il tuo momento adesso devo fare io cazzo ma devo fare dei trend cioè cosa mi consiglieresti ma va pubblica delle clip carine allora io di solito questa consulenza la faccio pagare più o meno 300 euro al minuto ok neanche se ti do la 2 ok regia dammi la 3 sembra sei le scapolottine di shrek sei la scena scapolottina numero 1 che è successo ho tirato una nasata adesso inquadriamo davide vai inquadra me regia dagli la 2 datemi la 2 no sì ci sta ci sta fare una pella pensata su tic toc dove possiamo mettere le clip di bridgeton e parliamo di bridgeton ti prego facciamo le reaction alle puntate però tu ti addormenti ma ieri c'era perché mi sono messa a guardarla a luna oggi la recupero ok ok no ma le ultime puntate sono sono belle sono spicy e sì perché poi succede una cosa spicy però lui scopre la cosa la cosa la notizia e quindi non si può dire sempre per spoiler no no faremo un mega sport vabbè oddio ci siamo bloccati avvocato no no è la connection del per ti non ti preoccupare ok sono tornata che vive vegeta no non so se uno spoiler beh sì della seconda stagione però che è uscita però tipo due anni fa vabbè comunque cioè tu hai presente gossip girl no non gossip girl pretty little liar se lo ricordi ma come no ma tu dovevi vedere tv vedevi nel senso prima di tutto sono maschio non voglio fare distinzioni ma non è che guardo queste cose certo ma devi guardarle servono per la tua psiche per la mia psiche ti aiutano a non fidarti di nessuno sono ottimi guardo non so harry potter fast and furious vabbè quello anch'io però i pirati di caraibi ciao però i pirati non esistono invece certo che sono esistiti e sono esistiti anche nell'epoca di bridgerton i pirati erano solo sporchi ok non lo sapevo inutili ma sporchi vabbè comunque pretty little liars c'è questo gruppo di ragazze che muore una di loro e loro devono scoprire chi è stato nel frattempo ricevono messaggi da questa a a a e si ferma solo con la lettera a che non è alice non è neanche alice non neanche avermo avide non è avide non è neanche alaria e basta e allora devono scoprire chi è questa a e poi si scopre che non mi ricordo neanche come finisce una di loro hanno allora sì mi pare che è una serie lunga che ha floppato dopo top stagioni secondo me dopo la quinta stagione è bella wave and your mother quello è un insegnamento io sono team friends mi è piaciuto il finale ti dirò sì ti dirò mi è piaciuto sono una delle poche persone che pensa che il finale sia corretto no più che altro perché c'è un insegnamento finale vero finale pinto no finale vero è quello che la serie tv possiamo dirlo tanto ormai quello dove lei muore e lui torna da robin e invece l'altro insegna lì il vero amore sì secondo me c'è una bella cosa non piaceva perché in realtà lui praticamente a tutto tutta la serie tv a cercare sta sto vero amore come conosciuto a me la trova e poi una puntata dopo muore a essi non c'è capito non ha senso sotto quel punto di vista però se ci vai a pensare banalmente il vero amore è praticamente il primo che ce l'hai davanti agli occhi capito invece il finale alternativo il finale alternativo è dove lei non moriva e felice e contenti no orribile dai scontatissimo scontatissimo è certo è molto più bello il fatto che ma è bello dio ma è più insegna di più secondo me è più romanticizzato il fatto che lei muore e lui torna al suo primo vero amore all'origine però a me barney e robin piacevano di brutto mi piacevano di più loro due insieme esatto avevano più chimica cioè ci sono più storie nella stessa serie tv insegnano tante cose senza che tu te ne accorga è quello che mi piace di away met your mother che non ti fa la lezioncina ma no non ti fa la lezioncina ma ridendo e scherzando ti insegna tante cose fai delle grasse risate dei grossissimi pianti esatto esatto tipo quella puntata dove muore il papà di marshall tra parentesi avete visto quella roba che diceva che l'attore che interpretava marshall non sapeva che l'attrice che interpretava lì sarebbe andata a dire di questa roba no non lo sapeva real cioè qui è esatto tutto real lui è stato bravo a non guardare tutti e dire ma che cazzo sta dicendo e si è impersonificato praticamente e poi ho visto tiktok che c'era un countdown in tutte le puntate sì sì l'ho vista anch'io sta roba c'era un countdown che praticamente in tutte le puntate c'era un numero da qualche parte che piano piano scalava per arrivare al giorno in cui conosceva o moriva non mi ricordo mi sa moriva no che gli dava la notizia ah è vero che gli dava la notizia che moriva il padre esatto ok assurdo sta roba bellissimo e come faceva lui a non saperlo? e gli è arrivata prima lei la notizia perché lui tipo non lo so non rispondeva al telefono no nel senso c'è qualcuno nessuno avrà detto all'attore vero sta succedendo questa cosa e magari l'hanno aggiunto all'ultimo e lui non lo sapeva fico però molto molto fico voi lo chiamo io lo chiedo però anche lì caspita come ti fanno a venire in mente tutte queste idee? cioè assurdo non è che c'è un team dietro no è che sì ci sarà un team no sì ci sarà un team dietro però magari che non so puntata per puntata dicono ok no deve succedere questa cosa e stravolgono la puntata dopo assurdo bellissimo va bene siamo andati siccome sembra fuori tema ma lo sapevo ma allora ci divertiamo ci divertiamo che ci frega lì c'è sì l'importante è vivere la vita felice dobbiamo seguire qualche regola qualcosa il flow dobbiamo seguire Davide l'unica regola che dobbiamo seguire per tutta la vita dobbiamo fare quello che vogliamo infatti adesso se voglio mi alzo e me ne vado ti lascio da sola no no ti prego saluta tu allora fai tu il ciao finale faccio io il ciao finale però non posso stoppare la diretta adesso perché ci abbiamo la e fai finta c'ho vinta io ti puoi chiudo qua Twitch avast è proprio così avast fine che ore sono? no dai stiamo ancora a 5 minuti di cosa vuoi parlare vai io ho finito hai finito tutto quello che ti ho detto di dire? eh sì ho parlato troppo non ho più voce hai parlato solo tu sì oggi è stato a me dispiace di aver monopolizzato la faccenda oggi scusatemi eri proprio full su Bridgerton sono scioccata sei scioccata? sì perché poi ho finito Brooklyn Nine-Nine che è l'altra serie tv che mi hai dato di guardare è stupenda è bellissima title of your sex tape eh non puoi capire ah sai di cosa voglio parlare? sai cosa vado a vedere stasera? Inside Out 2 sì ne parlano dopo a Cineforum non ne parliamo allora e no se non è manco e allora cosa facciamo? diciamo a tutti di guardare la puntata dopo 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 che parleranno di Inside Out 2 mi raccomando e poi invece dopo c'è la Ila con Regola d'Arte la Fra ci sono tre persone diverse la Ila, Regola d'Arte e la Fra ok e dovete guardarla parlano di moda e di una grande cosa che ha fatto la Ila di cui sono molto proud sì e non posso dirlo se no la gente non va a guardare la puntata e allora mi raccomando gli hai messo il pallino? sì a tutti questi nostri spettatori che stanno guardando marketing non so dove guardare guarderò tutto troppe cam disorientata sì molto mi sento tipo un cagnolino se vuoi ti do la tre regia dammi la tre eccoci eccoci qua grazie mille per averci seguito ora passerò la parola al mio collega in studio ciao Davide aspetta sto aspettando no no tu hai già inquadrato ah mi hai già inquadrato? abbiamo dei ritardi con Davide abbiamo dei ritardi sì un attimo Alice mi senti? ti sento benissimo Davide ti sento Alice 2 mi senti? sì sì chi è Alice 2 scusami? non so una delle due scannatevi tra di voi è la più piccola io sì sono la più giovane ok allora Alice 1 Alice 2 non dirò chi è come state? tutto bene? vi sentite? sì sì Ali mi senti? ti sento ti sento perfetto stiamo sfasando stiamo sfasando bisogna chiudere la diretta basta va bene è stato molto divertente con me ogni settimana ragazzi stare qua con voi è stato un onore essere protagonista di questo setting la settimana prossima torneremo di nuovo io sono io e Davide dove ci sentiamo nel nostro posto sicuro siamo solo io e te alla prossima no no mi piace con l'Ali non ti piace? sì non hai detto molto euforico dai sono non sono promossa no Davide mi vuole bocciare secondo me no 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 è una cosa molto carina secondo me ok è una cosa molto carina anche il fatto che ti si vede lì nel quadratino piccolino vero che sei tipo non lo so i telecronisti io ho sceso in terra no i telecronisti che guardano tutto e commentano ah giusto che guardano dall'alto arriva il capitano si toglie la maglia bellissimo Cala Fiori fa autogol non possiamo neanche parlare di della partita di ieri perché non l'ho vista non l'hai vista? non l'hai vista? no no io penso cioè io mi sono quasi rotto la mano al 98esimo minuto al 98esimo abbiamo segnato preciso preciso perché era con le mie amiche che sono proprio contro il calcio io avrei voluto vederla no è stato fantastico guardi? guardo solo gli europei e i mondiali dove ci siamo noi classica non lo dico vabbè a me non piace il calcio io continuo a non capirlo per me è uno spazio non capirlo il calcio scusa per me non ha senso l'altro giorno parlavo con Fede e mi ha spiegato il fuorigioco no no e mi ha spiegato il fuorigioco no Grazie a tutti